Sarò diretta con te. Dug, dico bene? Sì. Questa volta non ti tirerà fuori nessuno. Piacere. Elena Dominguez. Il segnale sta arrivando. Sarò costretta a chiedervi. Perché avete lavorato? E da quanto siete nel settore? Siamo professionisti. Abbastanza non spottaranno un cliente come lei con un futuro contatto. Non rischiamo mai che il nostro cliente veniva compromesso. Siamo dentro. Mi sembra rischioso. E se smarrite il carico? Quello procediamo, signore? Niente cazzato. Porca troia, Santos. Sai che la c'è collegata a WellNoat? Oddio. Nick è sempre così lontano. È il mio lavoro. Ed è questo che so fare. Continuerò come sempre ho fatto. Una passeggiata, eh? Perfetto. Passiamo alla fase successiva. Non è una gita scolastica. Noi siamo il Noat. Non è una passeggiata per noi. Ed è che vogliono. Sono anni ormai che mi danno la caccia. Sai, le persone in questa situazione di merda cercano un amico. Vuoi che io sia tuo amico?